amici di armietiro eccoci a voi con una puntata diciamo del dei nostri video dedicata alla mark ord diciamo così ovvero a un tributo a una delle pistole semiautomatiche che sono state un vero e proprio paradigma unicona diciamo del periodo del dopoguerra diciamo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80 stiamo parlando in particolare della beretta 70 in calibro 7.65 che probabilmente senza tema di smentita è stata una delle armi in assoluto più diffuse sul nostro mercato grazie a una combinazione di alcuni fattori prima di tutto la sua grande rusticità semplicità meccanica affidabilità precisione intrinseca ma anche tutto sommato un prezzo che risultava indubbiamente più economico rispetto ad altre realizzazioni magari di importazione come per esempio potevano essere le pistole walter su meccanica walter pp e ppk con è vero scatto in doppiazione ma ben altri costi al pubblico la beretta 70 che alla nostra destra può essere definita e in effetti lo è stata anche a partire proprio dai cataloghi originali della beretta una evoluzione di un altro fortunatissimo progetto che è rimasto anch'esso in produzione per tantissimo tempo che è la beretta 35 ci è parso quindi opportuno fare una sorta di retrospettiva evidenziando proprio quelle che sono le differenze meccaniche e concettuali tra la beretta 35 e la beretta 70 allora diciamo che sostanzialmente sono due armi che possiamo definire appartenere alla stessa classe nel senso che sono due armi di formato compatto con caricatore monofilare della capacità di otto colpi in entrambi i casi la lunghezza di canna è molto simile perché è di 89 mm sulla beretta 35 di 90 mm sulla beretta 70 a cambiare è leggermente l'ingombro complessivo nel senso che per la beretta 35 c'è una lunghezza totale di 152 mm mentre per la beretta 70 la lunghezza totale di 165 mm la differenza dimensionale in particolare è data da due elementi il primo è una leggera diciamo maggior maggiorazione dell'elsa posteriore che appoggia ovviamente sull'eminenza tenar a vantaggio di un maggior comfort ma soprattutto una impugnatura che come potete osservare risulta maggiormente angolata sempre proprio per garantire una collimazione più istintiva e più confortevole le differenze rispetto alla beretta 35 sono in realtà numerose e sostanziali tutte a favore diciamo di una maggiore sfruibilità sia sotto il profilo della precisione in trinca e seca sia sotto il profilo diciamo dell'ergonomia della possibilità di impiego con maggiore facilità e anche di fruibilità al tiro da parte di un'utenza media parliamo appunto di quelli che erano i limiti della beretta 35 che sono state anche però le sue qualità cioè una estrema semplicità meccanica nella quale tuttavia ad alcune componenti venivano demandate più funzioni per esempio la leva della sicura manuale nella beretta 35 assolve anche alla funzione di dispositivo di smontaggio e di leva per mantenere manualmente in apertura l'otturatore parliamo manualmente perché l'arresto dell'otturatore in apertura a caricatore vuoto viene svolto in realtà dall'elevatore del caricatore quali sono diciamo le problematiche di questo aspetto innanzitutto il problema è che essendo l'elevatore del caricatore a tenere aperto l'otturatore dopo lo sparo dell'ultimo colpo l'estrazione del caricatore è più difficoltosa perché bisogna vincere proprio il contrasto dell'otturatore che gli spinge contro e in secondo luogo chiaramente manca una leva manuale dell'hold open esterna e alla sicura manuale essendo demandata diciamo anche la funzione di leva di smontaggio c'è un'ampia escursione diciamo di azionamento che è di 180 gradi quindi tutta in avanti la pistola spara tutta indietro la pistola non può sparare e avendo la leva tutta indietro e arretrando il carrello il carrello viene bloccato in apertura nella beretta 70 si è deciso di fare tre distinti comandi quindi c'è una leva che serve solo ed esclusivamente a tenere aperto l'otturatore dopo lo sparo dell'ultimo colpo azionata dall'elevatore del caricatore che però a questo punto non subisce il contrasto da parte dell'otturatore e che di conseguenza può essere sfilato molto più agevolmente c'è poi una leva di smontaggio che in questo momento non è visibile ma ve la faremo vedere dall'altro lato sul lato destro che serve solo ed esclusivamente per lo smontaggio e c'è poi una sicura manuale posta innanzitutto in posizione molto più ergonomica inizialmente nel 1958 quando l'arma fu commercializzata si trattava di un pulsante scorrevole tra sinistra e destra destra e sinistra per inserire la sicura si spingeva dal lato destro verso sinistra il pulsante per disinserire la sicura con il pollice della mano si spingeva il comando spostandolo da sinistra verso destra nel 1973 si è passati alla configurazione che potete vedere nell'esemplare che abbiamo qui che ha una leva che agisce invece in senso verticale e che possiamo definire diciamo perché sia chiaro a tutti una sicurezza diciamo tipo 1911 government ecco che tra l'altro nel momento in cui è inserita con un apposito dente blocca anche in chiusura il carrello evitando che magari nel rinfoderamento nel porto occulto possa aprirsi accidentalmente il carrello in tutto o in parte lo scatto è sempre in singola azione ma anche in questo caso c'è una differenza sostanziale un altro dei limiti progettuali della beretta 35 è consistente nel fatto che lo scatto è piuttosto pesante piuttosto duro questa pesantezza dello scatto deriva dal fatto che il dente di scatto sul quale si appoggia il cane e che mantiene il cane in apertura in posizione di armamento è spinto dalla stessa molla del cane una molla quindi molto robusta molto forte che di conseguenza determina un certo sforzo perché il grilletto tramite la sua barra di trasmissione possa allontanare il dente di scatto dal cane liberandolo infine e causando la partenza del colpo nella beretta 70 il dente di scatto è azionato da una sua propria molla con quindi un dimensionamento ad hoc e di conseguenza lo scatto risulta estremamente più alleggerito inoltre la leva del disconnettore non è integrale alla barra di scatto ma è un pezzo realizzato a parte e anche in questo caso serve per avere degli attriti parassiti inferiori quindi per tutte queste ragioni lo scatto di una beretta 70 è molto più leggero rispetto a quello di una beretta 35 ovviamente questo si traduce in una maggiore facilità di piazzare con precisione i colpi rispetto a un tiratore che magari non sia particolarmente addestrato c'è poi una differenza sostanziale anche in questo caso nel sistema di aggancio della canna al fusto la canna ovviamente è fissa durante lo sparo perché la pistola ha una chiusura a massa semplice o labile per dirsi voglia c'è un innesto a t sostanzialmente che incastra la canna nel telaio e poi la leva di smontaggio diciamo la fissa in posizione la differenza sostanziale anche in questo caso del tutto migliorativa è che la lunghezza della rotaia a t rispetto alla canna della beretta 35 è più che doppia di lunghezza questo che cosa significa significa innanzitutto che il fissaggio è molto più sicuro rispetto all'usura quindi rispetto allo sparo di un rilevante numero di colpi il secondo vantaggio diciamo così è che una guida a t molto più lunga fa sì che la canna anche durante lo sparo e durante l'apertura del carrello abbia delle vibrazioni e delle micro oscillazioni molto più contenute anche in questo caso ovviamente il risultato è che la precisione è assolutamente superiore da un punto di vista proprio strettamente intrinseco infine l'altra variazione l'altra modifica che è stata fatta è stata quella di uno sgancio del caricatore completamente rivisto nella beretta 35 come peraltro avveniva in molte altre pistole dell'epoca c'è una leva di ritegno che è alla base dell'impugnatura e agisce direttamente sul fondello nella beretta 70 così come in altre pistole beretta del periodo a partire diciamo dalla beretta 51 che era la pistola più grande diciamo a chiusura geometrica in 9x19 e 765 parabellum c'è un pulsante integrato all'interno della guancetta rispetto alla allo sgancio posto alla base del ponticello questo sistema ha il demerito diciamo come peraltro per la beretta 35 di richiedere necessariamente l'utilizzo di entrambe le mani per lo sgancio ma nello stesso tempo consente una maggiore morbidezza di sgancio del caricatore che una volta azionato il comando cade quindi in mano senza necessità di dover essere fisicamente tirato fuori dall'arma sfilato fuori dall'arma per tutte queste ragioni chiaramente la beretta 70 ha progressivamente ma anche abbastanza rapidamente soppiantato nella produzione la beretta 35 e ha avuto assolutamente un grandissimo successo ma anche una grande longevità come abbiamo accennato l'inizio della messa in commercio è stata intorno al 1958 quindi appare evidente che il termine beretta 70 non si riferisce all'anno diversamente dalla beretta 35 nella quale invece il 35 il 1935 è stato proprio effettivamente l'anno in cui quest'arma ha cominciato a essere commercializzata e l'ultimo anno nel quale la beretta l'ha inserita in catalogo è stato il 1980 ovviamente trascorso questo periodo l'arma è stata diciamo messa a riposo solo ed esclusivamente dalle pistole della serie 80 di beretta che in aggiunta diciamo alle qualità che hanno contraddistinto questa pistola avevano innanzitutto uno scatto in doppiazione e poi la possibilità di avere o il caricatore monofilare o addirittura un caricatore bifilare quest'arma oltre alle varianti di sicura manuale che abbiamo descritto ha un ulteriore variante parliamo strettamente in questo caso del modello in 765 perché l'arma fu prodotta anche in nove corto ma praticamente solo per esportazione perché fino al 1989 il nove corto in italia era considerato calibro da guerra e poi ha dato vita a una serie di varianti in 22 long rifle che però saranno oggetto di uno specifico filmato più avanti dicevamo la versione in 765 ha avuto però alcune varianti oltre al sistema di sicurezza a pulsante trasversale oppure a leva ha avuto anche la versione con telaio in acciaio oppure come in questo caso in lega leggera lega leggera ovviamente di alluminio che ha il pregio di diminuire il peso complessivo di poco più di un etto un etto e mezzo circa e che ovviamente per chi all'epoca doveva portare addosso la pistola tutto il giorno poteva essere una differenza decisamente significativa l'arma è stata un must sia per privati cittadini che avevano il porto di pistola per difesa personale sia per le guardie giurate che all'epoca molto spesso ricorrevano a pistole compatte in 765 e oggi è veramente un classico il grande vantaggio tra virgolette di quest'arma che ancora oggi è molto amata dai collezionisti dagli appassionati è che in virtù della grandissima circolazione che ha avuto negli anni oggi è possibile trovare in armeria esemplari molto ben conservati anche praticamente nuovi a prezzi veramente molto 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 bassi e quindi chiunque voglia cimentarsi con questo Amarcord diciamo ha sicuramente la possibilità di farlo vi possiamo assicurare che non c'è di che pentirsene perché questa pistola nel suo segmento è un caposaldo assoluto della progettazione armiera del XX secolo è un caposaldo assoluto della progettazione armiera del XX secolo